Natale 2009, siamo nell'officina del Negro, la mano che regge questa stendida fettina di Pandoro falla vedere bene, è quasi trasparente la fettina di Pandoro, della serie per le braccine corte, gli amici del club festeggiano, ne arriva un'altra fettina, attenzione che ne arriva un'altra, ancora più fina, ancora più fina, eccola lì, bene, ma si riesce a metterla sotto, saluto degli amici, ed ecco l'autore che taglia le fettine, ecco il Pandoro come potete vedere, ed ecco l'autore, Braccaccio Maya De Men, attenzione sembra quasi che abbia studiato per fare queste fettine, fine, 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 eccola qua, mi vorrei ammaiarne una, eccola qua, facciamola vedere di lato, si piega addirittura, va bene, va là, che ridenzora!